Ah non importa, c'è un bel carniere Da fotografare, c'è un sale E poi ti si fa prima la foto, se no dopo Eh, che va, grazie Dopo Michele, ne ritrovi di Vinci Sono in estinzione, caso 2 Sì, che pochi, no, 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 no Ho mai imparato a suscare Io scherzosamente ho detto l'anno sabatico Perché non ho spesso, non mi ha fatto Ho trovato la chiamata Eh, lei sa Ma voi ti fa la notizia Ma voi ti fa la notizia E poi ci vediamo qua E poi ci vediamo là ma sono tutti morti 4.862 punti invece ne abbiamo una coefficiente più 2 3 4 e 5 grammostelli 1, 2, 3 e 4 4 adesso stiamo pesando 23 chiesi ma sono di plastica ma sono di plastica 23 chiesi qui si è colosauro qui si è colosauro Per un totale di 10.570 punti. Salute! Aspetta, aspetta. Però sono una specie. Aspetta, no, vado a dire. Specie 6. Nel senso che sono speciali gioccolari. Una specie. Allora, voglio una piacchina in ferro. Magari, vogliono 5 punti. Allora, voglio una piacchina in ferro. Secondo classificato, Giuliani e Lucca. Bravo! Non c'è la colpa, non c'è la colpa, non c'è la colpa. Aspetta, aspetta. No, ragazzi. Ragazzino, vai ragazzino. Vieni qua. Ci le applaudi. O la gliela sul piede. Vai. Vai. Bravo! Grazie. Grazie. Vieni che hai fatto corso. Secondo classificato, Roberto, per favore vieni, perché è giusto che si dia spazio anche a chi ci consente di organizzare. Certo, Roberto. Grazie, Roberto. Grazie, Roberto. Grazie, Roberto. Sembra fortunato. Sembra fortunato. Sembra fortunato, dico io. Perché hai trovato... Riccardo, perché se ricerca giustico... No, ma... Certo, ripostate... Non cazzo. Come le... Abbiamo detto il secondo classificato, Giuliani e Luca. Premio, 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 premio. Prendi l'applauso. Sei a metà tra questo e quello? E' una pratica che spinge, però. E' una pratica che spinge, ma... E qui hai un quarto dove... C'è che la roba li ha. Usa quella. Tutta bianca usa quella. No, la retina per le cose. La retina per le cose. Sì, non lo voglio. Grazie. Va bene. Allora sarà contento il quarto classificato. Che è Simone Cappelletti. Giuliano. Non è un primo. Non è un primo. Non è un primo. Non è un primo. Consenna la coppa a Giuliano, l'ingegnere Giuliano Prandone, Presidente della Protezione Civile, che sempre ti dà un amico importante. Non c'è chi non c'è le spiuglie. Non c'è chi non lo usare. 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 Se non ti andasse bene il numero, non lo dici che lo cambiamo. Non c'è chi non lo usare. Non c'è chi non lo usare. Il primo è per le coppe. Quarto classificato, Gammetto Enrico. Grazie mille. Grazie mille.